Forse questo è troppo. Da quando uno di voi mi ha messo in mano questa cosa, penso di aver sviluppato un problema. È un paio d'anni che ho iniziato a parlarvi di mod di Doom, e da quando ho iniziato ci sono state centinaia di persone che mi hanno chiesto, in maniera anche abbastanza ossessiva, di provare H-Doom, per poi parlarne qui sul canale. E va bene. Ho scoperto cosa fosse questa roba grazie ad alcuni membri del mio gruppo Telegram, semplicemente perché ne stavano parlando così, per chiacchierare. E una volta capito per che cosa stava la H in H-Doom, non potevo non mettermi qui a provarlo. Ho addirittura fatto una mezza battuta a proposito di questa cosa in un video, video che non si è calcolato quasi nessuno, eppure i commenti sono esplosi. Questo vuol dire che oggi ci metteremo qui, belli comodi, a snocciolare qualcosa uscito fuori da chissà quale meandro di internet. Venuto fuori soltanto per rovinarci tutto. Per farlo, carichiamoci con questo capolavoro, che si può trovare su Pampling. Questa maglia è veramente un rabbit hole, più la guardate e più dettagli notate. È la tavola periodica, ma fatta con i videogiochi arcade che hanno fatto la storia. Guarda qua, Mortal Kombat, Pac-Man, tutto. Utilizzando il codice Gematria, otterrete un ulteriore sconto sul sito, in questo momento c'è il 10,90 su ogni maglia presente sul sito, ma ovviamente anche un paio di calze gratis. Prima di mandare la sigla, ragazzi, non dimenticatevi che un video del genere, per quanto forse stupido e tutto quanto, sta mettendo veramente tanto a rischio il canale, quindi sostenetelo, iscrivetevi, mettete in giro il video, e ovviamente lasciate un bel like. E adesso, mandiamo la sigla. Buonasera, visualizzazioni e bentornate in questa nuova puntata di Sottobosco. Ma in vita mia avrei immaginato di giocare un qualcosa del genere, né che esistesse. Eppure eccoci qua. H-Doom è una versione per adulti di Doom. In particolare, come dire, una versione e... di Doom. Per chi fosse ancora puro di cuore, pensieri e azioni, vediamo di rimediare. Che cos'è un Entai? È semplicemente un manga per adulti, nel quale tutto è molto spesso estremamente esplicito e estremamente estremo. Esistono degli stereotipi e sono tutti quanti perfettamente racchiusi all'interno di H-Doom. Questa mod, fondamentalmente, trasforma il Doomguy in un mostro completamente assetato di demoni e femmine. Ma andiamo con ordine, perché oggi non voglio rovinarvi le sorprese, non voglio rovinarvi il pathos. Innanzitutto, questo file l'ho trovato su Reddit, mentre bazzicavo quella da un ente che chiedeva disperato come scaricare ed installare H-Doom. Ebbene sì, esistono persone disperate perché non riescono a giocare ad H-Doom. Che dire. Qui mi sono anche ricordato di tantissimi commenti che avevo letto. Ho detto, ma lo sai che è? Forse è il caso di andarlo a provare se così tanta gente ne parla. Quindi mi sono fiondato a scaricarlo ed eccoci qua. H-Doom è di fronte a me, in questo momento. Sono sinceramente emozionato. Non tutti possono dire di aver fatto questa esperienza. Ma il sudore che provo è dato dalla consapevolezza. Dovrò censurare mezzo mondo in questo video. Oddio mio. Andiamo con calma, che se no qua non si capisce niente. Una tristemente famosa intervista su Doom originale dice quanto sarebbe bello se solo si potesse parlare con i mostri. Ecco, qui più o meno è lo stesso concetto. Chi ha messo su H-Doom ha pensato, ma che bello sarebbe se solo potessi farmeli. Le difficoltà sono quanto di più fuori di testa abbia mai visto. Sono troppo timido per provarci. Ehi, non così forte. Scusami un sacco, ultra virile e mamma notturna sta bussando. Penso che ci siano davvero poche cose da aggiungere. Se non il cursore che, beh, è a forma di ca... Essendo una mod, possiamo anche iniziare dalla modalità base. Ma ce n'è anche un'altra, che in realtà non ho disdegnato per iniziare. Anche perché ero curioso. Le stanze della signora. Ah sì? E si va? Come rifiutare un'offerta del genere? Eccoci qua. Posto carino, ci sono persino le casse ai muri. Ma è pieno di interruttori e di teste. Non so perché. Prendo il berserk e... Oh mio Dio. Prendetevi il tempo che vi serve per metabolizzare questa informazione. Ma è in questo momento che mi sono reso conto di chi sono i demoni qui. In questo gioco, al posto dei demoni, ci sono le loro controparti femminili, per Junta and High. In particolare, in questo caso, ci troviamo davanti all'Hell Knight, che pare essere l'unico vestito di tutti quelli che mi sono trovato davanti. Tiro fuori la pistola e... Madonna santa. Questo gioco è completamente non violento, è proprio a prova di Peggy. Non penso, però vabbè. Al posto dei proiettili spargiamo amore e testosterone ovunque. E sì, i proiettili oggi li offre la casa. Letteralmente. Per tutto il gioco dovremo semplicemente soddisfare i demoni in ogni modo possibile. E ogni arma sarà caricata semplicemente a... Latte magico, diciamola così. Dopo essere morto in una maniera patetica per un nerd di Doom, ho deciso di aprire l'altra porta presente nella stanza. Qui mi sono trovato davanti a una sorta di bar, davanti a delle terme, posto nel quale mi sono trovato anche un fucile che definire particolare è veramente dire poco. Non sono riuscito a usarlo. O sono incapace io, oppure il fucile che è completamente inutile. Ma che cosa volete che vi dica? E pur sempre Age Doom. Inizio un attimo ad azionare gli interruttori per capire a cosa servono e subito vengo attaccato da delle versioni femminili degli Imp, che fanno davvero un sacco di versi strani. Così come tutti gli altri demoni del gioco, quando vengono sconfitti, o per meglio dire, soddisfatte, succede che inizi a sentire uno strano suono simile a un ticchettio di un orologio. Solo che, insomma, è un ticchettio ma non di un orologio. Sì, è esattamente ciò che sembra. Persino il Mancubus sembra quasi piacevole così. Oh mio Dio. Eh sì, ogni singolo demone di questo gioco non è che venga sconfitto. Semplicemente viene soddisfatto e la cosa è molto diversa. È qui che ho deciso di provare questa mod sul gioco vero di Doom, perché finora avevo soltanto assaggiato quello che potremmo definire come un intro. Per prima cosa è importante sapere che tutte le armi originali di Doom sono ora sostituite dalla loro controparte soddisfacente, chiamiamola così. Invece di fare una carnificina come al solito, oggi siamo qui per regalare tanto piacere a tante signore alte 3 metri. Ma una cosa ve la devo far vedere, o perlomeno vorrei farvela vedere, solo che devo censurare il minimo indispensabile. Ce l'avete presente come è fatta una motosega? Ok? Perfetto. Diciamo che è stata sostituita da qualcosa che fa un rumore, se vogliamo, abbastanza simile. Vibra anch'esso e può raggiungere dei formati davvero giganti alle volte. Eh ragazzi, io non ho parole. Solo tanti applausi e tante, ma tante domande. La prima mappa è pressoché identica all'originale, soltanto ha queste modifiche. È una difficoltà che, se devo essere sincero, non ho mai notato prima. Sarà che sto giocando in ultra virile, quindi non è che sia semplicissimo il tutto, ma sono davvero tanto incazzate queste qui. Il fucile a pompa rosa però c'ha stile, bisogna ammetterlo. Entro quindi in underalls, sparo al solito demone che c'è dietro le sbarre rosse, e... Madonna santa. In realtà io avevo premuto il pulsante per l'interazione, però è qui che ho veramente capito a che cosa mirava chi ha creato HDoom. Cerco di spiegarvelo in maniera sintetica, ok? Voi sparate i mostri. A posto? Nel momento in cui il mostro fa l'animazione, in cui si smanetta, avete qualcosa come uno o due secondi per andargli vicino, premere E, per poi farvi una sveltina con il suddetto mostro, che cadrà sfinito e perderà la voglia di farvi del male. Io non so se questa cosa sia geniale o da ricovero, sta di fatto che esiste ed è qua. A questo punto la curiosità ha ovviamente preso il sopravvento, e ho iniziato letteralmente a regalare momenti di qualità a qualsiasi demonessa presente nella mappa. Ogni demon ha le proprie animazioni, il cacodemon è un punto di qualità non indifferente, così come il cyberdemon. Eh, lo so ragazzi, mi ha fatto sentire una donna completa. Quindi niente, in conclusione contro ogni mia aspettativa, io questa mod me la sono divorata. Non so se sia per il fatto che sono una persona davvero molto preoccupante, ma è stato stranamente divertente. Soprattutto il cercare di scoprire che cosa avessero pensato per ogni arma, per ogni demone, e insomma, lo so, un po' la curiosità. Davvero fuori di testa. L'unica cosa da cui sono sinceramente contento è che gli Arachnotron siano rimasti uguali, perché penso che il rischio di perdere il sonno per sempre fosse proprio dietro l'angolo. Quindi niente ragazzi, volevate così tanto che provassi questo Hitch Doom? L'ho fatto, ci ho fatto il video, penso che possa finire qui. Se avete altre richieste, ovviamente non esitate a contattarmi, avete tutto quanto, magari anche qui sotto nei commenti potete contattarmi, ma anche con Instagram, per mail, cioè il gruppo Telegram, tutto quanto. Detto questo, penso che la puntata di Sottobosco possa anche volgere al termine. Io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi, qui sotto in descrizione trovate tutto ciò che può servirvi, tra cui Pumpling, mi raccomando, e noi ci vediamo alla prossima. Sottobosco 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 Sottobosco